ragazzi vi siete meritati questo speciale perchè c'è un saluto mi state dando un sacco di supporto molti commenti positivi quindi vi siete meritati questo video oggi reazione ai vecchi video gaming che dita quindi due mesi fa questo video qua è bello noi reagiremo ad altro molto altro fa prena team un altro mio canale che non ho più le credenziali giustamente quindi qui è un canale abbandonato per sempre croato da radio perchè seguivo croato 4 mesi fa i più popolari ok non elugiamo allora questo qua è il primo lo vedremo dopo primo giorno di lavoro vittorale di lego city un deathmatch da incubo veramente ho scritto così deathmatch tfew nella mia partita infatti vengo ucciso da uno col nome tfew quindi sicuramente tfew non so come ho vinto non so come ho vinto rigorosamente con il passamontagna da softair intorno al collo guarda che bello sbush vai non so come ho vinto eh cosa dici madonna che scarso la gente sbush vai video ora ora si che entro del cringe almeno che c'è l'ho fatto raga l'ho fatto ooooh uno video del canale con michele questo video è bello tre non mi piace 10 mi piace 10 mi piace i commenti sono disattivati perchè c'è l'ho fatto di sto coglione non so perchè ma ma perchè un ma perchè l'ho messo come video per bambini ciao ragazzi siamo qui con un ospite di super eccellenza amiche 5 volte a droga ma cosa vuol me a droga tour casa come tutti le ghe tutti le ghe commenti attivati giustamente ciao QDSS ma che scherzo ma che scherzo la pizza scusa eh cosa faccio con la pizza ma scusa ma avevo la pizza in mano la nutella nel frigo ma stavo appunto dicendo no rega che sarebbe così imbecille da mettere la nutella nel frigo oddio che sarebbe così imbecille da mettere la nutella nel frigo che diventa tipo un mattone un dislike no ma cosa ma che cazzo è sto robo oggi ragazzi siamo e ragazzi ci troveremo anche un lavoro ragazzi noi iniziamo quanti ragazzi 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 eh ragazzi eh veda qua magari che ci praticamente lo fai questo video auguro un stop in tempo quindi spero che mi condividete la tetra è bella a 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